Zerocalcare è il simbolo della capacità della sinistra estrema di proiettare e generare hegemonia o la fine dei sogni di rivoluzione della stessa? Ne parliamo oggi. Benvenuti a Progetto Arzia, oggi parliamo appunto di Zerocalcare, il noto fumettista cresciuto nell'ambiente dei centri sociali che dopo una lunga gavetta riesce a portare il suo spettacolo su Netflix. La serie titolata Strappare lungo i bordi, che tanto ha avuto successo lo scorso anno e che ha fatto sostanzialmente conoscere il fumettista al grande pubblico. Parto col premettere che faremo una chiacchierata in generale da quella che sembra essere la visione del mondo che emerge dei suoi fumetti e soprattutto della serie stessa. Ignoreremo invece tutta la polemica che ha a che fare con la biografia dell'autore, sul fatto che sia o meno un presunto ricco, privilegiato, che sia proprio di questo stile street militante che non gli appartiene perché in realtà questa è una critica tutta interna al suo mondo e non è il pauperismo il metro col quale giudicherei un artista. Mi invito ad analizzare la visione che emerge da le sue opere e cosa appare al pubblico medio, ecco, il pubblico casual che non è tenuto a conoscere in modo approfondito né la biografia dell'autore né anche sue vecchie vignette, le cose che sono un po' difficili da trovare di quando era più giovane, militante e vagamente violento, ecco, anche perché adesso con il fisico di zero calcare fa un po' sorridere. Analizziamo quello che emerge da quello che può trovare il pubblico medio negli ultimi 12-18 mesi, quindi i fumetti sul suo blog, il suo lavoro su Netflix, le sue vignette sul circuito della stampa Jedi, i libri della Feltrinelli. Più precisamente cerchiamo di rispondere a questa domanda. Zero calcare è la prova provata della capacità della sinistra estrema di fare sistema? Di fare egemonia? Strappare lungo i bordi è il risultato di questa enorme capacità egemonica? Partiamo dagli inizi. E' certamente vero che i centri sociali sono stati per decenni una terrificante macchina di socializzazione politica, un discreto ecosistema in grado di creare e alimentare una cultura politica con autori, testi e tesi, anche dotate di una propria autonomia almeno teorica, non necessariamente funzionale, alla sinistra istituzionale. Tuttavia, a mio avviso, non è assolutamente una presunta capacità egemonica della sinistra ad aver portato zero calcare su Netflix. Dopotutto, è impossibile negare che oggi, nel complesso, questo è il periodo di più basso fermento nel mondo della sinistra radicale. Anzi, possiamo affermare che oggi il mondo dei centri sociali è soltanto l'ombra di quella che era cinque anni fa e perché chi ha più di trent'anni si ricorderà è soltanto un ricordo di quello che era quindici o vent'anni fa. L'ondata di spolitizzazione che ha investito tutto l'Occidente, l'abbraccio mortale con la sinistra più istituzionale che ha reso difficile continuare a fare una critica complessiva al sistema e invece ha trasformato la critica della sinistra antagonista un po' più tattica, quindi si critica la Meloni ma si critica un po' di meno il PD, nonostante sul piano delle grandi politiche siano sostanzialmente identici, centrodestra e centrosinistra. La paura anche di essere marginalizzati, di perdere quel circuito economico-culturale che va costruito negli anni il mondo dei centri sociali, gli ha fatto abbandonare certi temi. Pensiamo alla tematica anti-NATO che è andata via via scemando fino ad essere praticamente scomparsa negli ultimi anni o addirittura l'anti-americanismo che invece dai tempi di Obama è sostanzialmente un tema che non esiste più nel mondo dei centri sociali. Succede di essere anti-americani quando c'è qualcosa che in America non piace, quindi si è anti-americani quando c'è Trump, lo si è un po' di meno quando c'è Biden ma lo si era praticamente per niente quando esisteva Obama. In particolare io credo che quello che ha generato un grosso impasse e che sta paralizzando il mondo dei centri sociali è stata la gestione con cui bisognava porsi e non ha saputo porsi il mondo della sinistra antagonista alla grande generazione pandemica. L'ambiente della sinistra radicale è stato incapace di capire se doveva appoggiare il Green Pass e però a questo punto aderire sostanzialmente al punto di vista della destra e della sinistra istituzionale oppure avere un approccio più antagonista e rivoluzionario però sporcarsi le mani e andare in quelle piazze, in quelle strade dove a livello di narrazione era già arrivata la destra radicale. Non avendo saputo fare questa scelta la sinistra radicale secondo me ha perso molto della propria capacità ed è uscita molto in termini di visibilità rispetto a quella che sarebbe stata una volta all'interno del dibattito politico nazionale. Quindi a mio avviso la spiegazione che riguarda il successo di Zero Calcare e la presenza di Zero Calcare su Netflix è quello apposta, cioè non è la sinistra antagonista che ha saputo imporre a Netflix un proprio prodotto, ma piuttosto Netflix, il capitalismo post-produttivo, che ha completamente colonizzato la sinistra radicale e ne ha modificato i contenuti simbolici, i riferimenti, le proposte politiche. Chiunque avesse visto la serie o ha sfogliato i suoi fumetti, a parte quelli proprio più politici, il libro sul Kurdistan, però chi ha sfogliato il suo blog ad esempio, se non conoscesse già il contorno e non si fosse già fatto un'idea dell'autore presentato da tutti appunto come il fumettista che esce dai centri sociali, obiettivamente farebbe fatica a capire o a trovare grandi connotazioni ideologiche. E' in particolare la serie, un racconto grossomodo intimistico, neorealista, quasi una trasposizione cartoon di un racconto di formazione, il protagonista è un ragazzo fuori tempo massimo che impatta col diventare adulto, con la vita vera, poco di politico e quel poco solo a livello simbolico, di identificazione, di riconoscimento, un gagliardetto sostegno dei kurdi nella sua stanzetta, una pezza con scritto Antifam nella palestra dell'amica e basta così, ecco qualcosa a livello, non voglio dire di poserismo, però qualcosa di prettamente estetico, una scelta anacquata, disinnescata. E' una scelta di zero calcare? Che voleva essere ecumenico? Può essere. E' una scelta di Netflix che ha spinto per avere un prodotto non troppo polarizzante? Può essere, non lo so, è indifferente. Qualche rimane è che, a mio avviso, non è una serie politica e, anzi, paradossalmente è una delle serie più leggere e disinnescate e meno politiche di Netflix, che invece è stata molto più politica nel prendere alcuni temi, analizzarli con un punto di vista precisamente progressista e cercare di renderli pop. Penso a come Netflix in passato ha cercato di parlare del tema della sessualizzazione dei minori, o di come Netflix tocca alcuni temi, ad esempio sull'immigrazione, o di come Netflix modifica la storia facendone una questione politica e quindi raccontando che Giulio Cesare deve essere nero, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto sommato, questo invece potete goderevela perché è un'opera molto più neutrale, ecco, ideologicamente parlando, anzi, mi sembra indicativo del processo disinnescante che ha coinvolto tutta la sinistra radicale, trascinata dall'orbita che si era costruita attorno alla sinistra istituzionale, sinistra istituzionale, a partire dagli anni 90, ha dovuto poco per volta far pace col fatto che il socialismo e quindi tutto il mito attorno al quale è esistita per 50 anni era fallito e quindi che bisognava essere coerenti con la nuova natura di essere una sinistra all'interno del sistema capitalistico. Quindi lo vediamo, oggi il PD ha completamente completato questa attraversata nel deserto, quindi l'ETA riesce ad avere una proposta economica che è sostanzialmente totalmente capitalistica, anzi forse rappresenta i settori più avanzati del capitalismo. Poi per costume ogni tanto cita Gramsci o si commuove a qualche ricorrenza, ma di fatto il PD è un parto che rivendica il proprio essere capitalistico. Il passaggio da contro e fuori a contro ma dentro al capitalismo è stata questa attraversata nel deserto che la sinistra ha concluso in particolare a mio avviso negli ultimi anni, perché la combinazione del Covid e la guerra russo-ucranina ha permesso alla sinistra istituzionale di trovare un proprio spazio, mentre la sinistra radicale è rimasta ancora in questo deserto, deve ancora capire come collocarsi all'interno di questo nuovo paradigma. Subisce ovviamente il fatto, la sinistra radicale, che è comunque legata in larghissima parte a quella istituzionale, addirittura per certi aspetti ancillare a quella istituzionale, fin dagli inizi alla fine entrambe nascono, in particolare in Italia, col mito comune della resistenza. Ma ora, mentre la sinistra istituzionale ha deciso di essere completamente liberale e liberista, la sinistra radicale deve capire se rimanere fuori da questa piattaforma e quindi condannarsi alla marginalità, pagare dei prezzi, pagare una marginazione alla quale non è assolutamente abituata, oppure avere un'offerta politica meno ideologizzata e più accettabile. Attorno a questa alternativa, il mondo della sinistra antagonista si sta spezzando. Vediamo qualcuno che ha scelto la radicalizzazione, mi sembra di vedere da esterno, che sia in particolare il mondo anarchico, che ha scelto di non scendere a compromessi e di tenere fede a un'analisi sempre radicale nei confronti della sinistra istituzionale, del mondo capitalistico, che dal punto di vista loro è sempre altro da loro. Ecco, poi che esista una sinistra istituzionale forse vagamente più accettabile della destra istituzionale, ma è sempre altro da loro. E invece una parte della sinistra, a mio avviso quella più legata al post-autonomismo, che sostanzialmente ha accettato di cambiare la propria agenda politica e di venire travolta da questa dialettica, assorbita dalla gravità con la quale ormai era diventata legata alla sinistra istituzionale. Pensiamo che moltissime battaglie della sinistra radicale, in particolare post-autonoma, sono sostanzialmente le battaglie del PD, solo aumentate di tono. Pensiamo al fatto che i grandi temi attorno al quale si sta sbattendo la sinistra radicale negli ultimi due anni sono i Friday for Future, lunghi dibattiti sulla fluidità sessuale, lunghi dibattiti su quale lettera aggiungere all'acronimo LGBT, che sono le stesse battaglie che fa il PD in Parlamento, con la Cirinna. Sono tra l'altro le stesse battaglie che il grandissimo capitalismo post-produttivo accetta e ha all'interno della propria agenda. Sui social queste battaglie sono considerate mainstream addirittura dai social testi, dalle stesse piattaforme. Zero Calcare sembra, senza voler esprimere troppi giudizi di merito, accodato a questa dinamica. In questo senso non esiste a mio avviso alcun successo, alcuna capacità di imporre la propria agenda, i propri temi ai capitali. Semplicemente è successo il contrario. È la sinistra istituzionale che ha accettato i temi del capitale. Fino a quando affermi qualcosa che il capitalismo può accettare, allora ti presta un megafono, quindi puoi andare su Netflix perché quello che dici è compatibile con il sistema di valori dal quale Netflix è emerso e nel quale Netflix ritiene di prosperare. Segno che molto semplicemente, appunto, non esiste alcuna esemonia centro-socialara, purtroppo per loro. È vero il contrario. È il capitalismo che ha colonizzato con le proprie categorie la sinistra radicale e la resa interlocutoria, subalterna le proprie necessità, lasciandole la possibilità di sviluppare e diffondere con facilità i propri simboli, la propria subcultura, perché ora questa subcultura è completamente ridotta a sé. Zero Calcare su Netflix quindi non è la vittoria della sinistra radicale. è un epitafio, è la presa d'atto, è la ratifica, il certificato di morte di una cultura politica che voleva essere rivoluzionaria e invece ora è completamente ancillare e metabolizzato dall'avversario che doveva combattere. Strappare lungo i bordi è un buon prodotto, godibile, me lo sono guardato, me lo guarderò ancora tra qualche tempo. intrattiene e mostra però cos'è diventata la sinistra radicale oggi, un tizio di 37 anni con un grande passato che non fa pace col proprio presente, con una grande paura del futuro. Non è una serie politica, non è neanche una serie disegnata da un militante politico, è la serie di un uomo di 37 anni che ricorda con affetto i propri anni più spensirati dell'adolescenza in cui ricorda che forse era più o meno militante politico, ma stiamo parlando di ricordi, di politica, di tribù, di appartenenza, di microsociologia, non di rivoluzione. Ma vorrei sapere cosa ne pensate voi se ritenete che sono stato troppo severo, se avete apprezzato la serie, che ripeto io ho apprezzato, solo che non è una serie politica in nessuna maniera al mondo. Fatemi sapere cosa ne pensate, come al solito vi chiedo di mettere like al canale, mettere like al video, di farlo conoscere, e non ho nulla da augurarvi di portarvi con voi in questa fase, come al solito, nella nostra fuga verso il post-postmoderno, quindi vi ringrazio, e ci vediamo alla prossima razzia. Ciao. Ciao. Grazie a tutti